Prendi la valigia, c'è o non c'è la camera, io da qui non mi muovo, io mi sono stufato. Oh ilà, pardon. Guardi signora, l'aereo per nizia parte alle 15.40. Posso prenotare, vero? Prenoti pure, grazie. Benissimo signora, senza altro. Vengo da parte del conto di Mazzorzini. Zuc nach Venedig. Fertum. Nei, nur nach Venedig ab. Hattest du schlaffat? Ja, bitte schön. Eh, pardon. Vengo da parte del conto... Sie haben einen Anruf aus Paris um sieben uhr abends. Bitteschön, bestätigen Sie bitte. Bitteschön. Pardon. Prego, signore. Vengo da parte del conte Maxorzini-Varaldo, vorrei la camera di loggia. Per carità, signore, la camera di loggia è occupata. Oh, è là? Allora mi accontenterei di una comune camera con bagno. Sono molto dolente, signore, ma per Capodanno tutto è al completo. Senza bagno? Nemmeno, signore. E allora mi dia un bagno senza camera, pur di non rimanere all'abbiaccio. Lei comprende? Pronto? Sì? Ah, la baronessa di Villombrosa lascia la camera? Va bene. Sì? Allora le faccio preparare il conto. Benissimo, grazie. Lei è veramente fortunato, signore. Le do la camera della baronessa di Villombrosa. Bene. Non mi manderà nanna con la baronessa, spero. Hai il documento per gentilezza. Ah, sì, certo. È una bella camera? Una bellissima camera con bagno e salottino. Bene. Che numero? Duecentododici, signore. Le do per documento il passaporto perché forse faccio una puntatina a Chamonix. Sta abituata a viaggiare io. Posso salire nella mia camera? Vuole avere la compiacenza di attendere qualche minuto perché non è ancora pronta la camera. Allò? Allò? Vuol mettere questa insieme alla valigia? Sì, signore. Ehm, perdon, prezzo? Novemila, signore. Ecco. Nemmeno molto, per la verità. A Cabragotta ci faccio un mese di villeggiatura. Fa portare i bagagli del signore al numero duecentododici. Dice qualche minuto, vero? Sì, signore. Do un'occhiatina al luogo. Mi interessa, vero, per la sua entità. Oh, insomma. Sì. Oh, mio Dio. Ciao, mio Dio. Ciao, mio Dio. Ciao, mio Dio. Ciao, mio Dio.